L'associazione Ronin dell'agropolese Marco Rizzo conquista un'importante medaglia d'oro nella Coppa Italia A2 e A1 di Judo. La competizione organizzata dalla Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali si è svolta a Policoro il 23-24 novembre al Pala Ercole, dove nella finale maschile e femminile si sono sfidati i migliori atleti a livello nazionale. Proprio nella finale maschile A2 di categoria 100 kg, l'associazione di Agropoli con l'atleta Fasano Cirillo porta a casa un grande primo posto. Un importante risultato per tutti i ragazzi dell'associazione sportiva e questa medaglia d'oro può solo rendere orgogliosa la città di Agropoli.